Via Biceglie, importante arteria stradale di accesso e uscita della città di Andria, da questa mattina a senso unico. Necessario il provvedimento a causa dell'avanzamento dei lavori di interramento della ferrovia. Si lavora al momento in tre punti principali, dei circa 3 km interessati dai lavori, in zona sud, in via Biceglie, appunto, per allargare e abbassare il piano stradale e ricostruire le spalle che sorreggeranno il nuovo ponte in metallo che sarà installato. E poi si lavora nei pressi di via Ospedaletto, verso la zona nord del cantiere, per uniformare gli scavi dopo la chiusura dell'attraversamento. E infine si lavora nei pressi della stazione centrale, il punto in cui sarà più ampio, lo scavo, che dovrà scendere di diversi metri in profondità. Fin qui la cronistoria dei lavori. I problemi da questa mattina sono tuttavia nella viabilità cittadina. Via Biceglie ha senso unico in entrata in città, mentre per l'uscita restano sostanzialmente due le priorità, e cioè via Barletta e via Corato. Il lunedì mattina è complesso inevitabilmente attraversare anche via Le Gramsci o via Trani, visto che si svolge nell'area attorno alla villa comunale Ceci il mercato settimanale. E la viabilità è stata messa a dura prova, con un traffico decisamente più sostenuto in diverse arterie cittadine. Il vero problema però è quello relativo alla tangenziale, che adesso diventa essenziale per smistare meglio le tante auto che attraversano il territorio. Il problema è che le condizioni del manto stradale e le trappole presenti, specialmente nel tratto tra via Biceglie e via Corato, ora vengono ulteriormente amplificate e sono un vero pericolo. Basti pensare a un pozzetto di fast web presente sul tragitto e sprofondato ormai più di un mese fa. Quel tombino, in un punto di strada già di per sé stretta, costituisce da questa mattina un vero e proprio pericolo per l'incolumità degli automobilisti, anche perché la rete arancione con paletti praticamente non esiste più. La tangenziale è necessità di interventi davvero urgenti, ancora di più ora che su quella strada si riverserà parte del traffico cittadino, essendo una delle vie alternative per raggiungere anche via Biceglie. Grazie.